Pioggia incessante ormai da tre giorni sul Varesotto e andrà avanti almeno fino a venerdì. Oggi, questo pomeriggio, la protezione civile della Lombardia ha diramato una nuova allerta che è peggiore, più minacciosa di quella diramata ieri. Si parla di rischio idrogeologico e di rischio idraulico contrassegnato da colore arancio, quindi un rischio alto. Che cosa coinvolge? Pericolo di smottamenti, pericolo di esondazioni sia di fiumi che di laghi. I danni si sono già visti nella notte e nella mattinata con degli smottamenti che sono avvenuti in Valganna, ma anche a sud della provincia, a Malnate. Abbiamo strade chiuse per allagamenti e piante cadute. è decisamente una situazione di maltempo anomala. Un mese di maggio così è davvero dominato dall'acqua e su questo non ci piove.